Sissi Negadina Sissi Negadina 29 aprile 2011 Test Gore Running Jacka Pulse AS Guscio ultraleggero destinato ai corridori intensivi realizzato con delle particolari tecnologie, in particolare il body mapping Il capo è costruito con tre zone differenziate di tessuto studiate in base alla performance del corridore Parte anteriore protetta con wind stopper e di conseguenza il vento viene completamente tenuto all'esterno Abbiamo una parte posteriore costruita con una mesh, una rete particolare che fa evaporare totalmente il sudore quindi quella è la parte ovviamente più soggetta al calore da lì può uscire facilmente l'aria Poi abbiamo una parte in tessuto stretch, in wind stopper stretch qui sulle maniche, qua sotto, vedete, che consente libertà di movimento Tre zone differenziate per diversi utilizzi da parte del corridore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti